Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli amici del comparto nel mondo del calcio a cinque. Ancora un weekend mandato agli archivi con una brutta situazione in casa Prato Calcio a cinque, battuto di nuovo e alle prese con il prossimo incontro in casa con la Sampdoria e dunque per il Prato Calcio a cinque si mette davvero male. Queste previsioni, play-out, retrocessioni che si stagliano all'orizzonte dalla Serie A2 girone B femminile però arriva la bella notizia della vittoria delle pelletterie scandicci sullo Jasnagora 3-1, gara data in diretta sul canale 196. Con questo risultato le pelletterie scandicci dopo un solo anno di Serie A2 femminile tornano in Serie A. Finiamo preannunciandovi una per me e per chi vive il campionato di Serie C maschile la retrocessione dell'Elba 97 dalla C1 alla C2. Ma noi andiamo a rivivere tutte le notizie degli ultimi giorni. Ben ritrovati da Stefano Ballerini dalla redazione del canale 196, nuova puntata settimanale sull'intero panorama del nostro calcio a cinque. Allora, cominciamo dai risultati della uno maschile, ventiseiesima giornata. Petrarca, Padova, Matera 5-3, Lido di Ostia, Manfredonia 3-3, Eboli, Camdosson 4-3, Fuzzal Pescara, Ciampino Aniene 2-2, L84 Volpiano, Napoli Fuzzal 7-3, Abate Avellino, Ital Service Pesaro 2-4, Olympus Roma, Meta Catania 4-0, Polistena, Real San Giuseppe 2-4. La classifica dice di Ital Pesaro, prima 56 punti, Olympus Roma 52, Petrarca Padova 50, 48 il Napoli, a 39 l'Abate Avellino, a 38 Leboli, a 38 insieme a Leboli c'è il Pescara, a 37 segue il Ciampino Aniene, a 36 il Real San Giuseppe, a 35 Matera, a 31 il Catania, Poi troviamo a 28 staccato di 3, Camdosson, 24 il Manfredonia, 24 l'Eli 84 di Volpiano, 21 l'Ostia, il Polistena viaggia a 15 punti e 3 di penalizzazione. Uno sguardo perché l'abbiamo ovviamente memorizzata, la classifica a marcatori in A1 maschile, Fortino, Napoli Fuzzal 34, Patias, Real San Giuseppe 31, Rafinha di Petrarca Padova 22, Marcelinho, Olympus Roma 20, Dalsin di Sandro Abate Avellino 19 insieme a Dos Santos Dimash dell'Olympus Roma, a 18 Musumeci nazionale italiano del Catania, a 18 Salas e del Real San Giuseppe, al 18 Gui o Guilherme Gaio nazionale italiano 18, Wilde a 18 punti. Andiamo a Serie A femminile, verdetti della regular season playoff, già i quarti saranno da urlo, questo è il titolo, l'ultima giornata di regular season della Serie A femminile servita per la composizione del tabellone dei prossimi playoff e scudetto al Via, il primo maggio salvo variazione dell'ultima ora, da ufficializzare il Città Falconara, già certo della prima posizione chiude in bellezza contro il già salvo kickoff e affronterà il bisceglie femminile nei quarti, nel remake del primo turno della scorsa Super Bio Cup al Paladome indecisa dai tiri di rigore. Per decidere seconda, terza e quarta piazza c'è stato bisogno di ricorrere al calcolo della classifica Vulsa, alla fine la sconfitta del Futsal Pescara in calo, ancora una volta contro il Real Staten, un cambio alla posizione delle campionesse in carica, seconde, sei punti, in virtù dei migliori scontri diretti nei confronti di Lazio, 5, Bitonto, 3, finite tutti a pari punti. Il Futsal Pescara quindi incrocerà i destini del Gran Z, il Bitonto, quelli del Tiki Taka Francavilla, altro quarto di quella Coppa che è stata, Lazio e Real Staten infiammeranno il post-regular season sin da subito. Nessun play-out invece, pur battuta a Francavilla, l'audace Verona conserva i 10 punti di vantaggio sul Sassari che cade in casa con il Bitonto e saluta la Serie A femminile insieme a già retrocesso Padova. Vi anticipiamo che dalla A2 femminile Girone B dopo la vittoria per 3-1 sullo Jasnagora, gara trasmessa in telecronica diretta sul canale 196 di Tele Firenze Viola Super Sport, risalgono subito in A1 le pelleterie scandici. Andiamo a vedere, Serie A femminile, i quarti di finale, Atena Sassari, Marbel Bitonto 0-2, Bisceglie femminile Lazio 1-3, scusate, in previsione dei quarti, gli ultimi risultati. Atena Sassari, Bitonto 0-2, Bisceglie femminile Lazio 1-3, Falconara Kickoff 6-0, Granzette Padova 3-3, Statte, Pescara femminile 3-2, Tichitacca Francavilla, Odacia Verona 3-1. Ed ecco i quarti di finale, gara 1 il primo maggio, gara 2 l'otto di maggio. Falconara Bisceglie, Bitonto, Tichitacca Francavilla, Lazio, Real Statte, Fuzza Pescara, Granzette. Le semifinali ovviamente a incontri ribaltati, la vincente 1 contro la vincente 2, la vincente 3 contro la vincente 4. Andiamo al campionato di Serie A2, Maschile Girone B, Villorba Prato, dura manita per il Prato che perde 5-1, per il Prato come detto in titolo si mette male, Città di Massa, Sporting Altamarca, Modena Cavezzo, Gisinti Pistoia, gli altri incontri e dunque Bulldog Lucrezia, Città di Mestre 5-6. Cavezzo battuto in casa da Gisinti Pistoia 3-4 con i gol del Modena Cavezzo, doppietta di Pires e gol di Dionan Barbieri. Per il Pistoia sceso in campo con Panattoni, Malucchi Maggi, Geni Stegna, Galindo Donadoni, Riccardo Berti Lorenzi, Bebetigno, Soto, Candem, Checo, Palermini, Caio, agli ordini Mister Lami, doppietta di Checo e i single di Bebetigno e Riccardo Berti Lorenzi. Eccola purtroppo la dura sconfitta in terra di Veneto per il Prato Calcio a 5, e tornato con le ossa rotta da Villorba, 5-1. Per i Veneti che vanno a segno con la doppietta di Asai e di single di Tres, del Gaudio e del Piero. Per il Prato Calcio a 5 che è schierato con Sottosanti, Giannatasio in porta, Buti, Sottosanti, Giannatasio e Buti in porta, Baloira, Orsi, Chechi, Brunetti, Pinzi, Cellini, Mendes, Riccobono, Ninghe, agli ordini del rientrante, coach Stefano Tesi, il gol laniero di Mendes, mentre per quanto riguarda, come detto, il Villorba, i due gol di Asai, Tres, del Gaudio e del Piero. Proseguiamo con il pareggio tra Città di Massa e Sporting Altamarca, finisce 4-4, il Città di Massa schierava Stagnari, Nobili, Quintinne, intanto che vi do le formazioni come abbiamo mandato le immagini del Prato, ma andiamo anche in sottofondo le immagini del Città di Massa, lo dico a Enrico Milano che mi segue in collegamento in regia da Firenze, Massa con Stagnari, Nobili, Quintinne, Tony Giodas, Sergio Quilet, Marangon, Del Frate, Cattani, Bertoldi, Bella Rabè, Lucio Gonzales agli ordini, coach Aliboni, doppietta di Sergio Quilet, i single di Bella Rabè e Tony Giodas, i quattro gol dello Sporting Altamarca, la doppietta di Alimi e i gol di Zannoni e Dos Santos. 4-3, spumeggiante tra Sampdoria e Gubbio, vince la Sampdoria 4-3 che sarà l'avversario prossimo del Prato in casa, gara difficilissima, una montagna troppo alta da scalare, mi verrebbe a dire ripensando al mio amico Venditti, la classifica dice Città di Mestre, Gisinti, Pistoia 45, Sampdoria 44 che non vorrà certamente mollare la presa, Città di Massa, calcio 5-39, Modena, Cavezzo 38, Villorba 28, Gubbio 25, Altamarca, Treviso 22, Lucrezia Pesaro 19, Prato 18, Fenice-Venezia Mestre 17, Ancona 4, le ultime due partite per il Prato, sabato in casa con la Sampdoria, la telecronica diretta ovviamente sul canale 196 e poi lo scontro che varrà un campionato intero proprio in Laguna contro il Fenice-Venezia Mestre. Campionato di A2, qui suonano le campane a Scandicci, c'era la partitissima, ci hanno chiesto la collaborazione da Scandicci, gliel'abbiamo data ben volentieri grazie a Moreno che è andato a Scandicci la sera per trasmettercelo in diretta, Pelletterie Scandicci, Jasnagora, la squadra sarda, valeva la promozione in A1, vincono le Pelletterie 3-1 tornando immediatamente in A1, Mediterranea Cagliari, San Giovanni Valdano 6-0, il derbissimo Firenze, Gisinti Pistoia termina 1-1. I risultati BRC 1996 Roma, Cuspisa 2-1, il gol della Roma di Zampetti e Signorello per le Cussine Pisane, il gol di Maca Uda. Firenze, Gisinti Pistoia termina 1-1. Per il Firenze segna la Scicata, per il Gisinti Pistoia a segno Popolo. Qui possiamo andare a vedere le formazioni. Firenze con Polito, Giovannini Bianchi, Mauro, Grancia, Scicata, Sacchi, Pocobelli, Lucente, Chiappini, il duo in panchina, Tarchiani e Scarpellini, come detto il gol della Scicata, Gisinti Pistoia che si è schierato con Ceni in porta, Barsotti, Popolo, Capaldo, Baldi, Badalassi, Guarino, Migliorini, Turcinovic, allenatore signor Biagini segna Popolo ed eccolo il match che ci rassicura tutti e che ci rende felici. Pelletterie Scandici, Jasnagora, 3-1 diretta sul canale 196 con Moreno Vassallo, le Pelletterie si sono schierate con Pucci, Luongo, Colucci, Vizcaino, Mendesce, Pia Gomez, Maione, Ciatti, Brandolini, Biagiotti, Paso, Sanchez, Teggi e Cibecchini, allenatore presto, doppietta della Elbana, Maione, gol di Pia Gomez per lo Jasnagora, il gol di Privitera, FB5 Team Roma, la Coccinella Roma nel derby 0-1, Progetto Fuzza a Roma, Sabina Lazio, derby Laziale, 2-1 Mediterranea Cagliari che rafforza la seconda posizione, vince 6-0 contro il San Giovanni Val d'Arno, i 6 gol sardi di le doppiette di Filippa Mendesce e Furno, i single di Cannas e Ru Marques, per San Giovanni nessun gol si è schierata con Ciofini, Bazzini, Mannucci, Marinoni, Innocenti, Caldelli, Borghesi, Martini, allenatore Faraoni, la classifica, Pelletterie Scandicci 56, promossa in Serie A 1, Cagliari 52, Jasnagora 46, Roma Calcio Femminile 37, Progetto Fuzza Roma 35, BRC 1996 Roma 34, Sabina Lazio e Gisinti Pistoglia di Punti ne hanno 29, Cuspisa 24, 24 dicevamo, la Coccirella Roma e Firenze 20, San Giovanni Val d'Arno 16, FB 5, Team Rome 10, arriviamo al campionato di Serie B, girone D, Recanati batte Ascoli 6-2, Montesicudo Trecolli batte Eta, Beta, Pesaro 4-3, Fuzza al Ponte d'Era che batte Corrinaldo 5-4, Pontedera che si è schierato con Cerri, Burchi, Maggini, Garofalo, Davini, Juan Losada, Pioli, Caccialli, Adrian Ramirez, Vitigno, Salvadori, Pitonto, allenatore Sardelli, tutti single, Caccialli, Joan Losada, Vitigno, Pitondo, Maggini, per il Corrinaldo i quattro gol, la doppietta di Baciocchi, i gol di Campolucci e Rotatori, Fuzza al Prato, Firenze otto due, qui abbiamo delle immagini, durante la mia descrizione le mandiamo dalla regia Grazie, Fuzza al Prato, batte Firenze otto due, Fuzza al Prato che si è schierato con Salvaggio, Pigna, Scianna, Giglioli, El Gallaf, Doni, Arcogamiz, Bambini, Allori, Pacini, Pecchioli, D'Amico, il duo in panchina, Sforazzini, Pullerà, i gol del Prato, Arco Gamiz, El Gallaf, doppiette, Bambini, Pecchioli, Doni e Pacini, i single per Firenze che è sceso in campo con Checucci, Bennucci, Leone, Casamenti, Righini, Madonia, Julio Cesar, Falconi, Del Sala, Alaia, Lucchi, Dini, allenatore Lastrucci, gol di Righini e Alaia, in fondo, Arpi Nova, Campi Vizenzio, Fuzza al San Giovannese, al tendone di Campi Vizenzio, 4-7 L'Arpi Nova, Campi Vizenzio, Gramigna, Gelli, Morganti, Edudì, Villa, Masti, Coaudio, Vallecchi, Canticef, Ceccarini, Lebrà e De Gennaro, allenatore Mariotti, gol, tripletta di Edudì, un gol di Masti, per la San Giovannese scesa con Ortolani, Fugazzotto, Senesi, Bellocci, Piccioni, Mangetti, Bearzi, Piccinini, Amariti, Sosi, Sosa, Righeschi, Pisconti, Checo, allenatore Bearzi, Piccinini, la tripletta di Bellocci, la doppietta di Righeschi, i gol di Pisconti e Checo, infine Potenza Piccena batte l'Astrigiana, 3-0 per Potenza Piccena, i gol di Di Matteo, Renan Pizzo e Nichina Silveira, per la L'Astrigiana, nessun gol è scesa con questa formazione, Jacoponi, Fredducci, Patetta, Buzzegoli, Barestri, Cubiglios, della marca, Rovella, Pratesi, Pelagatti, Montorzi, passa l'acqua, allenatore il signor Coccia, la classifica Ascoli 59, Recanati 51, Montesicolo Trecolli 46, Fuzza al Ponte d'Era 42, Fuzza al San Giovannese 41, Potenza Piccena 39, Eta Beta Pesaro 36, l'Astrigiana 24, Corinaldo 19, Fuzza al Prato 18, Cagli 15, Arpinova, Campi Vizenzio 15, Firenze desolatamente in fondo con 6 punti, serie B, Girone E, Eur Massimo, Atlante Grosseto 2 a 1, la classifica Sporting Hornets Roma 37, Eur Massimo Roma 34, Pomezia 32, Anzio 29, Ternaro 27, Atlante Grosseto 26, arriviamo alla C1, mancano adesso 4 giornate, l'Elba 97 giocava a Porto Ferraio con la solita formazione iper rimaneggiata, non c'è storia, il 5 to 5 vince 6 a 1, l'Elba si è raschierata, qui abbiamo delle fotografie, le possiamo mandare a corredo, Zamboni Orlando in porta, Zani, Di Nardo, D'Alessio, Anselmi, Marchetti, Mercandelli, allenatore Linaldedu, il 5 to 5, I Picari, Taglioli, Catania, Mammoliti, Piacentini, Signorini, Randazzo, Marchetti, quello Pisano, Rossi, allenatore Vasarelli, hanno arbitrato Lupoli, Rudai, Lereti nel primo tempo, Signorini, Taglioli 2 a 0 per il 5 to 5, nella ripresa, Piacentini, Mammoliti, il gol della bandiera dell'Elba di Marchetti, Catania e Randazzo, nella C1, dunque il Midland Global Sport, vince con le crete del quasi salvo, Vigor Fucecchio, Deportivo Chiesa Nuova, 7 a 3, Elba 97, 5 to 5, 1 a 6, Midland Global Sport, le crete Siena, 4 a 0, la 10, Livorno, Mattagnanese nel big match, 6-7, limite Capraia-Monsummano, 10-2, Poggi Bonzeze, Verac Villaggio, 3-5, nel recupero, poi lunedì, super weekend allungato per l'Elba 97, che andava a recuperare la gara con il Verac Villaggio Prato, ebbene, il Villaggio Prato vince 5 a 2, gli elbani dunque, perdendo anche questo, danno l'addio alla serie C1, vanno a refetto solo in 6, segnano Armandino D'Alessio, ti abbraccio e ti voglio bene, ventesimo timbro, Sarò all'Elba contro la Livorno 10 per la tua ultima gara con la maglia dell'Elba 97, poi fine basta e segna anche Mercantelli, dunque per gli elbani ne mancano solo 3, Versilia fuori, il turno di riposo, dunque non si gioca, la Livorno 10 e il fucecchio come a dire, dovresti vingerle tutte, ma onestamente dobbiamo dire, purtroppo da qualche tempo è già C2, la formazione, i numeri della partita di Prato, Verac Villaggio Prato 5, Di Maria, De Laiti, Sanesi, Orru, Gimondo, Cavallaro, Bugiani, Panariello, i due fratelli, Panariello, Brondi, Sabatini, Giannatasio, agli ordini coach e begli uomini, doppietta di Giannatasio, doppietta di Gimondi, gol di Brondi, mentre il Leba 97 che ne segna due, si è schedata con Zani, Infanti, due portieri, Orlando, Mercantelli, Marchetti, Anselmi, D'Alessio, solo in 6, allenatore Linaldei, due gol di D'Alessio, come detto, ventesimo centro e Mercantelli, la classifica ha 4 da giocare, 3 per l'Isola d'Elba, che deve riposare, Fucecco e Mattagnanese 53, Versilia 38, la Livorno 10 e 5 to 5, Pisa 37, Monsummano 33, Verac Villaggio Prato sale a 32, Lecrete Siena 31, Deportivo Chiesa Nuova 23, Limete Capraia 22, Poggi Bonsese 13, Midland Global Sport sale a 9 e praticamente si salva l'Elba 97 che aveva dovuto rinunciare a giocare una gara due turni fa, perde un punto in classifica e ne aveva due e con questo la frittata è completamente fatta, campionato di C1 femminile, gli ultimi risultati, Scandicci Atletico e Viareggio 2-3, Atlante Grosseto, Limpia Colle Valdezza 4-0, Vintus Marino di Massa Polisportiva 2M Campi Bisenzio 0-0, allora la Livorno 10 promossa direttamente in serie B, i playoff hanno visti, le gare di semifinali, Prato Calcio 5, Fuzza Scandicci 5-0, Prato con Romeo e Betti, tra i pali Pili, Rosini, Sarchielli, Marcetti, Bettazzi, Becucci, Bannucci, Selesi, Torrini, Pizzinani, allenatore Nicola Giannatasio per dovere di cronaca, Scandicci, Paoletti, Squassina, Ingegneri, Santoro, Tofani, Chiocciora, Romero, Tofani, Tanzi, Mancino allenatore signor Palma, Lereti, Salesi 2, Sarchielli, Marcetti e Bannucci, nell'altra semifinale l'Atlante Grosseto pareggia 3-3 con l'Atletico Vareggio dopo i tempi supplementari, vale il miglior piazzamento per l'Atlante Grosseto che si qualifica per la finale del 29 di aprile che sarà Prato, Calcio 5, Atlante Grosseto che designerà la seconda promossa dopo la Livorno 10. Chiudo con il campionato Under 17, erano in programma le semifinali, 5-5, Elba 97, 3-0 e 5-5 con Perretti, Gai, Everdani, Ragoni, Di Noia Lotti, Bonciani, Stefanini, Ciardelli, Musolino allenatore Catania, Lerba 97 con Ballini, Diversi, Reina, Retali, Lemmi, Piras, Bucci, Marchetti, Depinto, Russo, Parti, Spataro allenatore Orlando, un abbraccio a tutta la squadra, stagione straordinaria, il ricambio della prima squadra è già pronto, purtroppo decide la tripletta di Ciardelli, nell'altra semifinale Scintilla 1945, Prato Calcio 5, 6-1, doppietta di Basilizze, Colambaioni, Galli, Dumitrescu, Cioffi per il Prato, Bobocea, la finale sarà il primo di maggio, 5-5, Scintilla 1945 alla Campi Arena di Via Barberinese 157 a Campi Bisenzio. Allora, questo è il nostro report di ogni metà settimana, ogni mercoledì sul canale 196, sole solamente di Tele Firenze Viola Supersport. Grazie a Enrico Milano che mi ha seguito in collegamento remoto, dandovi le immagini e i servizi. Vi lascio con le interviste da Casa Prato e non so se ci saranno anche quelle dopo Pelletterie Scandicci, Yasnagora 3-1 che avvalso al ritorno in Serie A 1 delle Pellicerie Scandicci. Vi lascio alla visione, rimanete con noi, buon pomeriggio, buona settimana, ci risentiamo mercoledì prossimo, questa volta direttamente dal nostro studio del canale. 196, arrivederci, buon fine settimana da Stefano Ballerini, viva il calcio a 5 linee allo studio. Una vittoria che la suggella contro il Prato. Esatto, oggi finalmente siamo arrivati matematicamente a salvezza, abbiamo raggiunto questo obiettivo che speravamo di arrivare molto prima, però è un campionato equilibrato, tosto, la Serie 2 non è facile, la Serie 2 è un campionato molto difficile e sì, l'obiettivo è raggiunto, tardi ma siamo contenti, per come abbiamo iniziato il campionato diciamo che è andata alla grande. Qualche rimpianto nella possibile corsa verso la zona playoff rimane? Certo, se guardiamo tutti i risultati, soprattutto all'inizio, che abbiamo fatto 0 punti nei primi 12, con lì abbiamo pagato, adesso alla fine diciamo, con qualche punticino in più forse eravamo lì a lottare per il quinto posto. Cosa è mancata all'inizio? All'inizio forse, non so, forse la proposta di difesa che di accordo con i giocatori che avevamo non siamo adattati e comunque la voglia, la grinta non è mai mancata, non è stata quella sicuramente. forse sì, un po' di introsamento tra di noi, ma è normale, l'importante è che siamo riusciti a riprendersi. Quanto è stato importante contro il Prado segnare subito, per l'altro col tuo gol? Sì, per tutta la partita ci dà una fiducia a segnare all'inizio, che è una cosa che diventa meno complicata la partita, perché subito segni, sei già con la fiducia al massimo. Diciamo che è stato il primo mattoncino per dopo riuscire a chiudere 5-1 la partita. Però le ultime due, per togliersi, magari qualche soddisfazione e tranquillità? Assolutamente sì, non andremo a pareggiare, andremo a cercare il risultato, assolutamente. Dopo con i pistoli in casa, davanti ai nostri tifosi, non possiamo entrare per giocare così a caso. Entriamo sicuramente per fare 6 punti su due partite, rispettando sempre l'avversario. A suggerire una salvezza, la cosa è arrivata, una buona prestazione di squadra, un ottimo centrale difensivo. Sì, è andata bene la partita, abbiamo iniziato subito bene, il gol ci ha dato una mano, subito dopo 30 secondi. Dopo è stata una partita difficile, perché il Prato aveva bisogno di punti. Dopo pian piano abbiamo iniziato a esprimere il nostro gioco, i gol sono arrivati, la difesa abbiamo preso un gol, è andata bene. È andata bene, è una squadra che ha ruotato tanti giocatori, tanti cambi, è una squadra anche con buone prospettive. Sì, abbiamo girato in 7-8, non so adesso. È stata una settimana un po' difficile, non giocavamo ferma, pausa, rigioca. Quindi trovare il ritmo partita non era facile, siamo stati bravi. Sì, la squadra sì, di prospettiva, poi ognuno prenderà le proprie decisioni a fine campionato, però è una buona squadra. Siamo partiti male sto anno per i tanti cambi, per il nuovo allenatore, per tante cose, però pian piano ci siamo ripresi. Avete rimesso in piedi, ora il derby con lo Sporting Altamarca, andandoci da tranquilli. Il derby è sempre derby, ci metteremo tutta la voglia, l'attenzione per portare a casa i tre punti, come sempre. Vediamo cosa avviene fuori, ma sarà una partita tosta anche quella. Soddisfatto della tua stagione a livello personale? Sì, soddisfatto abbastanza, dopo un avvio un po' come questo sport è fatto di non puoi giocare da solo. Quindi se la squadra non gira, per tante cose, ci sono tante varianti perché non gira una squadra, è difficile che il singolo viene fuori. Quindi quando si è alzato il livello della squadra sono soddisfatto, è stata una buona stagione, la dobbiamo chiudere al meglio. Presidente Beniero Fanfani, Presidente, da 1 a 10 contentezza? 11! No, è una bella soddisfazione per tutto il coronamento di una stagione fantastica che ci ha portato appunto con oggi a poter vincere il campionato e comunque arrivare a una finale di Coppa che è finita come è finita, però è sempre una grande soddisfazione perché l'importante è comunque sia arrivarci. Poi è chiaro che però è il coronamento di una stagione non semplice che però alla fine ci ha dato la migliore soddisfazione che ci potesse essere. Bello è stato conquistare la promozione davanti a questo bellissimo pubblico? Eh sì, per motivi di Covid e tante altre cose, purtroppo quest'anno non è stato possibile però vedo che comunque sia quando c'è bisogno il pubblico comunque viene sempre a vedere le nostre partite. Oggi era un'occasione importante, dovevamo centrare la vittoria per festeggiare già da oggi e è avvenuto e con questa cornice di pubblico è bellissimo. Ma poi contro, avendo battuto, una squadra di tutto rispetto, non è la Snagora veramente forte? Sì, ma le due squadre sard erano tutte delle ottime squadre. Io sapevo che lo di Asnagora era partito con noi per vincere questo campionato perché come squadra era molto forte e ci avrebbe oggi impenserito. Però le ragazze sono state veramente brave. Le faccio un grande applauso per tutta la stagione perché non è stato facile e quindi non posso altro che ringraziare tutte le componenti dalle ragazze a tutto il resto della società. Sono stati veramente eccezionali. Presidente, ora si gioisce un po', però siamo in A1 e quindi tra un po' bisogna cominciare a pensarci. Adesso gustiamoci la vittoria di questo campionato perché specialmente dalla parte nostra come dirigenti si festeggia sempre troppo poco perché si deve pensare sempre al futuro. Ora godiamoci la vittoria, poi al futuro ci penseremo fra qualche settimana. Un'ultima cosa ti chiedo, convincimi Roberta Maione a venire al microfono perché oggi non può dire di no, è un compito che ti do ora. Ci provo, te lo prometto. Complimento ancora Presidente. Grazie, grazie a tutti, grazie a voi. Allora eccoci qui con Roberta Maione, l'assoluta protagonista di questa partita. Due reti, ma come hai fatto a fare queste due reti, Roberta? Quelle che non ho fatto durante l'anno me le sono ottenute all'ultima, terz'ultima partita. Niente, diciamo che ci eravamo preparate durante la settimana per giocare al meglio questa partita qui. Sapevamo che era decisiva per accedere alla Serie A d'Elite, quindi bene, è andata bene. Parliamo di questa partita, una partita giocata da te, da tutta la squadra, ma da te in particolare, con molto raziocinio, spingere quando c'era da spingere, difendere quando c'era da difendere. Hai sofferto come le tue compagne. E poi qui però quelle due perle che non ci decine sulla torta, ma di più. Allora, i due gol che ho fatto, diciamo che mi ha spronato anche un po' mia mamma, che quando l'ho chiamata mi ha detto ma me li fai due gol, per favore. Merito della mamma allora. Sì, tutto merito suo. Poi naturalmente le compagne per me sono indispensabili. Io da sola non riesco a fare granché, quindi lì dove ci mettono una pezza loro io cerco naturalmente di ripagarle al meglio. Un'annata che non è stata sempre tutta rosa e fiori, infortuni, anche te hai subito un infortunio abbastanza lungo, però il gruppo è rimasto unito, coeso, è andato dietro a Pammela Presto, l'allenatrice e i risultati si sono visti. Sì, quest'anno diciamo abbiamo avuto difficoltà abbastanza importanti. Proprio perché c'è stato il gruppo siamo riuscite ad uscirne al meglio. E sapevamo che era difficile, è difficile, diciamo che è stato, come ho detto, un anno difficile, però il gruppo ha fatto la differenza. Avete capito solo stasera dopo il fischio finale che avevate vinto il campionato? Qual è stato il momento in cui avete detto è nostro? No, in verità noi oggi ci siamo svegliate con una sola idea, che il campionato era nostro. Non c'era se, non c'era ma, ce lo meritiamo e quindi non avevamo dubbi. C'era solo da giocarlo in campo. Che dirti Roberta, complimenti per tutto l'anno, per questi gol fantastici, che non so cosa ho detto quando hai fatto gol, poi lo ripeteremo, col Darsi mi sia lasciato scappare qualcosa di sconveniente. Speriamo di no, complimenti ancora e che ti do, grande prestazione e grande annatto. Grazie mille, ciao.